niente ragazzi i giorni sono brutti posso parlare? che puoi parlare? stai imparlando il sardecito che puoi parlare? stiamo regalando la terza media alla quarta serale, valla finita posso? la quarta la terza media serale? posso? chi è psicologo ha quarta la terza media? chi è psicologo ha quarta la terza media? posso? posso parlare? scappavi da scuola elementari? scappavi da scuola elementari? posso parlare un secondo? e parlo allora niente ragazzi questi giorni dicevate il zio silvio, il zio silvio, il zio silvio posso mi rimettere a nuovo regà e come vedete Don Pedro è anche specializzato a fare i capelli parrucchiere eh famo pure appuntamenti a casa eh pure appuntamenti a casa, certo finire lì fermo però eh, si fermo ti fai i capelli alla narco su mi sono visto il film di Pablo Escobaro ma mamma si sa quanto era cattivo perché noi no eh? beh no che sei cattivo tu sei bambacione e babbo natale che sei cattivo ah non so cattivo io ma quale cattivo? quale cattivo? ma che ti pensi a te che ha fatto la malavita perché ha domino due giorni per strada? due giorni? dieci anni sono due giorni? dieci anni sono due giorni per te? stascio te dieci anni e mezza la strada? ma io ce l'ho stato? ma cos'è te che sai? a te sei insano che il garda sei stato qui allora Paoli che butto per terra? tanto, fino adesso andai a buttare no tanto poi pulimo tutto prima che sei andato pulimo tutto te pulisci? perché io non posso pulire una scopata per terra mi stanno a favore di capelli oh mi sta facendo eh ma con i sordi mia con i sordi tu no 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 Don Pedro in Pianaliera Don Pedro in Pianaliera ma no di malavita però perché Don Pedro innanzitutto sta con noi in professionista come noi sono professionista non ti ho prometto niente fa piano lì la faccio bene lui lo fa per bene per bene di lui niente rega oggi è andata così domani chissà domani chissà 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 chi sei chissà che sarai chissà che sarà di noi troppo alta lo scopriremo solo vivendo comunque adesso ho un po' paura ora che questa avventura sta diventando una storia vera spero tanto tu sia sincera ti dici po' che te bucì è a Silvio pa 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 passiamo un po' fermo eh parla se stiamo a diventare il mondo no ti dico ti dico ti dico un te la oh ti dico un te tagliare i capelli da gennaio Dario ma che te l'hanno qua oh è di più è di più oh no 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 senti ma ma se i capelli quando ci paghi che si vuoi li vediamo ah vediamo no a pagare solo qui lo vogliamo per bene niente non volemo sordi Don Petro non vole sordi e lui se ne approfitta sempre di più sto bastardo sto bastardo se ne approfitta e il magna fregna il magna fregna se ne approfitta di noi che lo sai che vogliamo bene non ti voglio bene ah io ti voglio bene e dillo qua se hai le palle fermo un attimo guarda guarda ha messo sotto carica il telefono ha messo la birra figo ha vero? ci sta? non mi ha boccato qua boh ti sta buono te lo ti faccio più ti lascio così eh va bene sta buono non ti faccio con me io sfrappi un pezzo lo stanno appiando anche gli stai cazzati io voglio vipar oggi posso vipar ma se porti sono padrone di io prendere un pezzo e sfragniammelo da solo e fammi le botte di diarrea boh allora ti vi ha manete eh? ti vi ha manete capito? c'è un colpite da mezzo la tagliano di più allora ti do bene però eh ma diciamo in questi ultimi tempi ma è vero che ti chiamano ai parioli il signor Cistiferia signor Cistiferia è vero no però non sta un attimo fermo lì sta fermo e questo mi distrae lo so ma tu vuoi andare a fare i capelli grazie ma che cazzo vuoi io guarda te vuole bene ah te vuole bene lì io l'ho eh tu dove ne sai che ne sai tu di un campo di grano poesie di un amore di grano è finito tutto ciao 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 ciao